ciao a tutti sono leonardo raso della lr immobiliare oggi siamo a roma quartiere tiburtino esattamente in via di casal bertone l'immobile che vi presento oggi è un delizioso appartamento trilocale trasformabile facilmente in un quadrilocale attraverso una porta blindata entriamo nell'ingresso dell'appartamento dotato di armadio a muro tramite un dispegno accediamo al salone singolo dal quale è possibile uscire sul primo dei due balconi sempre dal salone è possibile anche accedere alla spaziosa cucina abitabile che volendo potrebbe essere trasformata nella terza camera da letto creando un angolo cottura nel salone tramite il disimpegno è possibile accedere a una prima camera matrimoniale molto spaziosa al bagno dotato di doccia e finestra e alla seconda camera da letto servita anch'essa da un balcone vivibile l'immobile si trova in ottimo stato di manutenzione a pavimento in perché infissi nuovi alle finestre grata anti intrusione ed aria condizionata abbiamo visitato un delizioso appartamento di circa 100 metri quadri al sesto piano di una palazzina di otto piani dotata di ascensore e servizio di portineria la palazzina a prospetti esterni in cortina e risulta in buono stato l'immobile a doppia esposizione e risulta molto luminoso le spese di condominio ordinario ammontano a circa 90 euro al mese e la vendita catastale e pari ad euro 1.058,74 centesimi potete visitare foto video e planimetrie di questo bellissimo appartamento sul nostro sito www lr immobiliare roma punto it lr immobiliare la tua casa in buone mani